buongiorno amici buongiorno a tutti quanti ragazzi oggi sono troppo felice vi chiederete il perché ragazzi è nata una stella ragazzi è nata una principessa questa mattina alle ore 5 e 10 presso l'ospedale cannizzaro di catania ragazzi e mia nipote ragazzi sono molto felice se io e la mia famiglia ragazzi sono molto felice per ginevra ragazzi ginevra benvenuta ragazzi mando un bacio particolare ai miei nipoti perla e luca e tutta la famiglia siete grandi non vediamo l'ora di vedere la nostra piccola ginevra piccola principessa ragazzi questo è un evento importantissimo un evento fantastico e meravigliosa ragazzi la nascita di una bambina è la cosa più bella che ci possa essere in questo mondo quindi io volevo farvi i miei migliori auguri anche se purtroppo sono a distanza sia io che la famiglia siamo al momento distanti però ragazzi ci vediamo presto va bene ci vediamo prestissimo volevo farvi gli auguri pubblicamente con tutto il mio cuore ragazzi non vediamo l'ora di abbracciare la nostra piccola principessa ginevra che è nata alle 5 e 10 questa mattina 5 e 10 ragazzi ripetiamolo 5 e 10 di questa mattina per la cosa dire hai fatto una una principessa avete fatto una principessa per le luca un bacio grande grande da tutti noi da torino va bene spero veramente al più presto di poter fare un salto a catania e vedervi tutti quanti e abbracciare soprattutto la nostra piccola principessina ginevra ragazzi un bacio a tutti quanti da noi va bene vi vogliamo bene auguri 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 ciao ginevra a presto a zio e zia